Weinen, piangere, angst, paura, hunger, fame, brot, pane, allein, sola, los, avanti, stuk, pezzo. Così ci chiamavano le SS. Io ero il pezzo 75.190. C'è un mondo che parla di cose che io ho visto con i miei occhi e io non ho il coraggio di dire la mia, ma io sono una testimone, ho una responsabilità diretta nel tramandare la mia storia. Avevo ritrovato il mio nome e con il mio nome me stessa. Segre è il mio nome! E poi Liliana. La mia è una storia di nomi che si sfiorano, si intrecciano, si scontrano lasciando dietro di loro un'impronta intrisa di vita. Fredo. Quando lo vedi pensai, oh mio Dio, mi sento male! Ci innamorammo all'istante e dopo tre giorni eravamo già fidanzati. Non è possibile! È tornata Liliana Segre! È tornata Liliana Segre! Tutte le persone del palazzo si affacciarono alle finestre e vennero giù in cortile a salutarmi. E io guardavo le finestre di casa mia. Le uniche rimaste chiuse. Tu, ufficiale svizzero del comando di Arzo, tu hai condannato a morte tre di noi. Tu hai condannato me al lager. Tu hai emanato la sentenza poi eseguita dai nazisti. Tu, nella mia storia, sei l'unico a non avere un nome. Perché non meriti un nome per nascondere la tua vigliaccheria? Tu, ufficiale svizzero del comando di Arzo, sarai sempre un senza nome. Tu, ufficiale svizzero del comando di Arzo, sarai sempre un nome. Grazie a tutti.